La partita più attesa di questa parte finale di campionato, prima contro seconda, avversarie per antonomasia con un finale scudetto da espiare. Landbol erice, sabato al Palacardella, affrontato Salerno nella penultima gara, prima dei play-off che decreteranno la squadra campione d'Italia. Una sfida che sa di antipasto di quella che sarà la parte finale di questo campionato, con le arpie, reduci della vittoria, con dosso buono a gestire la gara nel primo tempo, in una partita ad alta intensità, molto bella da vedere con le neroverdi, a chiudere la prima frazione 18-13. Nel secondo tempo però cala un po' Erice e Salerno, che non pecca certamente in esperienza, è brava a sfruttare gli errori delle ragazze siciliane, portandosi sul pari nei minuti finali, che poi sarà l'epilogo del match che si chiuderà a 31 pari. Ecco il commento post-gara della portiera Romina Ramazzotti. Quando si pareggia così vorrei dire di sì, ma soprattutto perché penso che durante la prima parte la partita è stata nostra. Abbiamo giocato quello che ce l'avevamo detto in settimana, siamo state organizzate, disciplinate e abbiamo fatto vedere quanto vogliamo fare il risultato. Secondo tempo sicuramente stanchezza e anche loro hanno buttato un po' di esperienza, ci ha penalizzato questa cosa, ma penso che nel complesso abbiamo fatto vedere cosa possiamo fare. Vogliamo farlo soprattutto per noi, perché lavoriamo solo ogni giorno, ce lo meritiamo. Quindi adesso dobbiamo pensare a Sassari, che è l'ultimo campionato, non bisogna per niente sopravvalutare perché bisogna andare là, è una trasferta difficilissima e poi sicuramente già testa all'otto, che ancora sicuramente non sappiamo contro chi andiamo, ma non importa perché a noi importa arrivare fino alla fine.